Calcite ad Arezzo è sinonimo di solidarietà, di donazione per mantenere le strutture oncologiche retine, particolarmente lo scudo, il servizio d'acronimo di cure domiciliari a malati terminali. Ma è donazioni non soltanto di danaro ma anche di cose pregevoli. Ed oggi qui abbiamo nei locali della segreteria del Calcite un meraviglioso artistico presepe donato dai cittadini. Abbiamo qui il nostro tesoriere, il fratello del grande presidente fondatore Gianfranco Barulli, abbiamo Antonio Barulli, è qui con noi negli uffici della segreteria. Allora Antonio un'altra iniziativa per il Calcite che darà sostentamento e danaro per mantenerci il servizio scudo. Abbiamo questo presepe che è stato donato da un nostro concittadino che viene sempre ad aiutarci per il Calcite, per il mercatino di maggio normalmente con i suoi prodotti artistici. Quest'anno ha voluto donarci questo presepe che noi metteremo in lotteria, verrà esposto il presepe qui al negozio Benetton, chi lo vorrà vedere da oggi è lì esposto e da domani cominceremo la vendita dei biglietti della lotteria. Un biglietto verrà venduto a 2 euro, 3 biglietti 5 euro. Quindi partecipate tutti quanti numerosi a questa manifestazione che il Calcite presenta come sempre. Quindi un invito pressante anche per questa iniziativa, come dicevamo l'iniziativa del presepe, questa lotteria e buona fortuna ai nostri concittadini sono stati sempre presenti alle iniziative del Calcite e questa sicuramente sarà di precevole valore perché un veramente meraviglioso presepe merita soltanto di vederlo nel negozio Benettona d'Arezzo. Arrivederci alla prossima organizzazione del Calcite.